ciao a tutti caciotti e benvenuti in minecraft coreano what the fuck allora 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 mi rendo conto che magari la transizione che ho voluto fare è stata troppo repentina perchè ho fatto tutto in un giorno ne avevo già parlato però ho fatto tutto in un giorno quindi ecco quello che succederà la serie di moddata io ho cambiato il nome per me si chiama minecraft moddata per ora poi sono uno più figo userò quello e ecco quello che succede minecraft sul mio canale è destinato a luna e quindi dei giorni ci sarà minecraft ita e dei giorni ci sarà come si chiama minecraft moddata oddio fa schifo suggeriti me a qualcun altro quello che non capisco è la maniera di non mi piace perchè davvero non l'ho apprezzata e se siete uno degli utenti che ha messo non mi piace su uno dei video degli ultimi giorni dovessi disiscrivervi perchè non mi interessa avere persone che ragionano come i commenti che ho letto nel video del giorno scorso non mi interessa davvero quindi per favore disiscrivetevi se siete uno di quegli utenti e penso aver trovato una soluzione devo notare la cesta guarda la cesta alla sinistra sembra una doppia cesta tipo con con il cosetto sul lato in realtà non ho una cesta singola le peggio cose allora minecraft ita giornaliero non è sostenibile perchè per fare degli episodi che intrattengano che siano degli episodi come degli episodi veri e propri bisogna fare dei progetti carini sono in minecraft vanilla ultimamente se notate andavo in giro parlavo di qua di là parlavo di progetti che potevo fare però essendo giornaliero ci devi perdere troppo tempo per farlo giornaliero ci devi perdere minimo 2-3 ore a fare i progetti come si deve e quindi ecco la soluzione che ho trovato mi rendo conto che il cambio è stato repentino quindi voglio rimediare la serie minecraft ita non è finita però non è giornaliera minecraft ita uscirà quando avrò il tempo di farci i progetti e tutte quelle cose carine quando vedrò che esce un episodio decente magari parlando di qualcosa di importante di minecraft mostrando qualcosa sugli snapshot oppure creando qualche progetto che sia interessante qualcosa che sia degno di essere guardato e dico così perchè un pacchetto come quello moddato oltre al fatto che alcuni lo trattano come se io avessi finito di fare minecraft come se il pacchetto moddato non fosse minecraft questo non l'ho capito davvero ehm cioè alla fine in minecraft ita cosa fai costruisci ma ci sono anche le mod non l'ho capito ehm in un pacchetto moddato è molto più facile registrare gli episodi perchè c'è tanto da da dire e da spiegare e c'è tanto da fare quindi gli episodi sono sempre pieni c'è sempre roba da fare è molto più comodo per registrare giornalmente una serie multiplayer che non una serie vanilla e quindi la soluzione finale quale sarebbe che ehm minecraft ita non finisce esce un episodio diciamo ogni 2-3 giorni una roba del genere o magari ci saranno dei periodi in cui esce tipo minecraft 3 giorni di fila e un altro periodo in cui esce solo minecraft moddato per una settimana avete capito il senso l'importante è che le due serie sono divise ehm perchè ho visto che l'am avete a cui mi hanno dato ragione però se devo tenere minecraft ita aperto mi conviene cambiare il titolo se non divento un casino assurdo ehm e così se poi vedo che ehm non apprezzate questo sforzo che sto facendo per diciamo lasciare che apprezzate di più la serie moddata perchè sono convinto che se vi piace minecraft vanilla minecraft moddato lo adorate però mmm la gente un po' parte per il partito preso è un po' un casino sempre pregiudizi e robe varie un mio dio non è minecraft ita che cosa sta merda dislike 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 e quindi vabbè oggi va così vediamo un po' cosa fa questo episodio ho già registrato l'episodio di minecraft moddato ma a sto punto lo metto domani cos'è lunedì e quindi vabbò or bene allora questo episodio voglio finire uno dei progetti che ho iniziato non ho finito uno dei tanti in realtà che è il telescopio in realtà molti di voi mi hanno mandato dei messaggi dicendo che un progetto che loro volevano vedere finito a quello della fabbrica di pozioni beh ragazzi guardate che la fabbrica di pozioni è funzionante e operativa funziona tutto cioè è tutto ok tutto a posto sono andato a controllare giusto prima ho detto boh ma qua mi hanno dato 30.000 messaggi su sta roba da fare boh magari mi sono limitato qualcosa non lo so però non l'ho finita neanche troppo cioè qualche mese fa l'ho finita neanche chissà quanto tempo fa quindi bah anyway anyway allora mi ricordo che mi avete inviato tante cose no per vedere come era il telescopio tutte ste robe così belline blu però non mi ricordo e sono sicuro che se avessi trovato qualcosa che pensavo fosse andata bene magari l'avrei fatta subito e non avrei aspettato così tanto però ecco quello che mi è venuto in mente avete presente ehm non so perchè mi ho presente una scena di harry potter che probabilmente non c'è manco in harry potter però mi ricorda harry potter no perchè c'è tutte quelle case un po' ehm non dico vecchie ma strane avete presente oddio quarta volta che dico presente ehm sono cose molto strane no e mi immaginavo un telescopio più che telescopio una specie di cannocchiale gigante barra telescopio fatto in stile di queste casette me le immagino tipo come una parte finale tutta larga e piano piano restringendosi fino a diventare praticamente di un blocco solo spero abbiate capito cosa intendo perchè faccio fatica a capirlo anch'io ecco allora vediamo qua purtroppo questa è una zona a quattro blocchi quindi quindi bisognerà farla in maniera un po' così non ci ho portato via anche un po' di iron bars ah questo è tutto ferro che ho a disposizione tutti i blocchi di ferro che ho a disposizione quindi ce li faremo ce li faremo bastare ah immaginate una roba di questo tipo dammi il blocco thank you hmmm magari tre blocchi anche qui poi così ma fa culo bestia così no mettiamolo tipo la è un esperimento tanto esperimento è tanto talmente esperimento che quasi sicuramente non lo lascerò così però voglio provarlo voglio provarlo insieme a voi perchè questo potrebbe essere interessato un cazzo fa cagare cosa è sta merda ah però guardarlo così da fuori ma fa talmente tagare che vomito guarda guarda scommetti che vomito e dai fammi sapere no ho sbagliato voglia nell'acqua no cazzo ma una terra più no ma non ci credo a che storia dai ma ti rendi conto tre ore per fare un viaggetto del genere peggio cosa ancora ma vuoi dimmi che non riesci a beccare una roba del genere che è solido eh infatti aspetta no no non vomitare non ancora non l'hai visto bene ok dopo aver vomitato numerose volte sono andato a dare un'occhiata ai suggerimenti che mi avete inviato per fortuna esiste la funzione fighissima ricerca messaggi su facebook che è una figata Dio ho finito il buon meal ehm ho trovato un messaggio di di Gabriele ehm che risale boia a marzo tipo mille mila mesi fa quattro mesi fa a momenti no quattro mesi fa boia mamma mia calco disegnamente rapidi perchè c'è la mamma mia la? per lo stesso motivo perchè sono andato in quella cesta e non in questa boia vacca e mamma mia un design che boia sembra figo però è con un'altra texture non è la texture vanilla quindi ehm io ho risposto così a Gabriele ho detto beh in effetti è figo però penso che la texture faccia la maggior parte del lavoro in questo design perchè con la texture ormai non penso andrebbe così bene ehm però voglio provarci lo stesso soprattutto la cosa più bellina che ehm che vedevo nel design che mi ha inviato è che ehm le porte perchè sai com'è il come si chiama? l'osservatorio c'ha quelle cose di cobblestone là ai lati che sono veramente delle porte che si aprono quando uno vuole osservare no c'è il punto sarebbe quello e io l'ho fatta in cobblestone sarebbe molto più co... boia ma questi albri io li odio boh va che roba va che storia e la miseria vai pipa il culo va legno quanto ne ho di legno beh in teoria mi basta anche e questo come faccio adesso diamo fuoco aspetta se lo fuoco è pericoloso per qualcosa no dai fuoco a tutto dai fuoco a tutto dai fuoco a tutto aspetta fammi andare un attimo in alto ecco madonna oh porca puttana ce la farò dai che ce la fai ma no dai sta prendendo abbastanza fuoco aiutiamolo un po' perchè è una rottura raccogliere sti albi è una rottura ok e queste porte nel design che mi hai inviato sono fatte di legno e il cioè il contrasto è fighissimo è una figata furda e dato che voglio provare a a fare un qualcosa di più corposo no perchè quello che mi ha causato il vomito e penso abbia causato il vomito anche alcuni di voi con il design di prima che ho fatto improvvisato è molto più figo quando c'hai la texture a più a più come si dice a più pixel ehm come dicevo voglio provare a fare un design un po' più corpulento per così dire con una base più pesante proprio e la vedete un accenno stavo provando già a fare un qualche tentativo e però come vedete usando dei colori grigi come può essere gli stone bricks e quelle robe la perde di significato fra una roba del genere e quindi volevo sostituire tutta sta roba qua ora se faccio una roba di questo tipo e sostituisco questi perchè questi che devo sostituire fare una cosa di questo tipo sarà un casino sostituirlo però potete già immaginare che se è tutto di quel colore tutta questa striscia potrebbe venire qualcosa di più carino ma ciao ma ciao ma ciao ok allora penso di esserci riuscito penso di esserci riuscito ho creato una cosa un po' più cicciottella e non quelle robe tutte minuscole quindi due blocchi contati di ferro tra l'altro l'ho fatta di cobblestone quindi magari la vado a sostituire con qualche altro blocco stavo pensando magari l'andesite chiamano l'andesite anche se dovrebbe essere tipo andesite vabbè andesite e penso che quella sarebbe una cosa buona però devo trovare quarzo quindi sono qua nel nether serve per trovare un po' di quarzo come vi dicevo serve per prendere un po' di glowstone perchè voglio metterci due pezzetti di glowstone nel mezzo sto telescopio poi vi faccio vedere naturalmente come è venuto e se non mi piace suca perchè ne ho fatte talmente tanti che fanno tutti cagare tra l'altro questo è un uomo con cui sono felice non è il migliore che probabilmente si può fare sicuro però non ci lamentiamo perchè sennò vi picchio tutti abisce ok 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 direi che come quantità di glowstone ah no guarda qua c'è un bordello così comodo facciamo anche un po' di quarzo qua quindi direi che possiamo fare la nostra andesite molto tranquillamente andesite di cui puntualmente mi scordo la ricetta ma ehi cosa vuoi che sia no cosa vuoi che sia un conno dovresti ricordarti la suda qua non c'è la ney come cazzo fai poi la suda la suda e questo è il modo di comportarsi fa un culo oh forse usciamo ad arrivare uno stack no improbabile yep molto improbabile ok give me that bitch ok ho fortuna no merda qui ho una una cesta con oddio il peggio bug non so se qui ho una cesta un ender cesta un ender cesta perfetto ecco non usiamo l'enderman addosso l'enderman ma che coso che coso non usiamo l'enderman addosso agli end i pigmen buona questa cosa è più lunga di quel che mi ricordavo come spiegare mille mille ender per così a cazzo non so se qua c'ho la ender cesta dovrei poter potrei dover tornare insomma hai capito non ce l'ho che bello bisogna del piccone con fortuna per forza perchè altrimenti mi da tipo un quarzo a blocco e non è fattibile per nessun motivo al mondo forever tipo 1 1 vado a prendere il piccone magari con siltac così non so vediamo che possibilità c'ho perchè quello con fortuna era mezzo rotto beh mezzo rotto un corno questo con siltac efficiency fortuna questo chan breaking questo silt vabbè fa un culo scemo questo quanto scommettete che ora uso questo piccone e non questo mamma mia lascia stare proprio lascia stare ok direi che ho raccolto un po' di roba insomma un due tre quattro stacchi cinque pezzi oh mi sono perso una roba ok per fortuna che qua ho trovato tipo di là c'è una piccola pianuretta con un bel po' di quarzo quindi è comodo è comodo ora dovrei essere a posto dovrei poter craftare l'andesite e spero spero ci stia bene ora invece vi faccio vedere per appunto questo come si dice telescopio devo dire che non me ne ero accorto ma mi sono arrivati tanti messaggi che mi hanno detto che in realtà nella realtà proprio in realtà nella realtà c'è proprio IRL per capirci cioè gli osservatori non c'hanno il telescopio che sempre sporge infatti mi hanno inviato un bordello di foto delle cupole aperte con niente che esce fuori e mi hanno detto ma guarda in realtà gli osservatori c'hanno telescopi che si c'hanno di qua di la però solo tipo alla nasa le robe pesanti c'hanno telescopi che escono dalla cupola quindi a livello teorico andrebbe bene così com'è però ehi finchè c'ha qualcosa da fare mi lamento ehm si se non vi piace magna ma come direbbe Daniele doesn't matter perchè ehm non penso di riuscire a fare di meglio eh soprattutto con queste dimensioni perchè il progetto che ho inviato Gabriele eh era un era bello cicciottello nel senso anche di dimensioni infatti la cupola anche era molto più grande lo spazio che io ho di 4 blocchi lui ce l'aveva tipo di di 8 9 blocchi quindi più del doppio ah come vedete ho cambiato tutto il la la roba di di roba la roba la roba eccola qui non notate i dettagli perchè ho messo anche le tutti e 11 le le stanghe di ferro la come vedete è qualcosa che sporge e e niente di meglio non penso di riuscire a fare con questo spazio ehm perchè ecco la la mi mancano dei blocchi però giustamente devo fare la oh cazzo l'andesit ma come si fa non si viene la gravel boi perchè mi scordo sempre ma no ma non serve la diorite non serve la diorite prima di fare un paio di diorite e fare così 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 fa l'andesit ok ok allora va bene penso oh guarda che casino allora fammi quello che poi se io faccio così mi da l'andesit e poi l'andesit faccio così ok la memoria attenzione ragazzi la memoria mamma mia che bestia che bestia ok come vedete non è collegato perchè quello che conta è l'apparenza allora fammi fare un saltino qua in alto pum pum ora devo sostituire tutti i blocchi allora come vedete qua ai lati ci ho messo queste croci praticamente che aiutano molto l'estetica che altrimenti serve semplicemente un cubo messo a merda ecco questo è importante che lo mettiamo la ora mettiamo tutto bene così le robe che non si vedono non è importante che siano dei blocchi ufficiali così almeno risparmiamo facciamo una roba di questo tipo ok questo così oh bella come faccio ora ok ecco e come vi dicevo voglio mettere della glowstone qui quattro pezzi di glowstone così di notte sembra come se la luce venisse raccolta quando in realtà emana luce però dettagli e penso di potermi accontentare vedete è un aggeggio metallico perché come vedete ai lati ci sono tutti quei blocchi no con tutte le strigature e quelli ci sono tutte le saldature no poi in cima c'è blocchi di ferro perché è molto complicato e poi c'è tutti i cavi vedi tutte quelle cose di ferro che girano le stanghe di ferro sono tutti i cavi tutte le cose e io penso di potermi accontentare poi quelli di voi più schizzinosi oh mio occhio che schifo però io mi accontento ma che bellino ma che bellino ma che bellino aspetta prima vediamo se riesco a fare un saltino ecco è un po' piccolino in effetti un po' poco dotato questo osservatorio però se vado un po' più se vado un po' oltre perché ho fatto altri tentativi prima dopo aver vomitato se vado troppo oltre non è improporzionato rispetto alla grandezza dell'osservatorio e risulta tipo uno stuzzicadenti che esce da una palla da golf per farti capire boia gli aerei ti odio aereo no non è vero ti amo mamma non cadere per questo episodio è tutto non c'è nessun progetto chissà che che figata però era più per il messaggio iniziale che ho fatto questo episodio quindi io vi ringrazio tantissimo per la visione mi raccomando se vi è piaciuto lasciate un mi piace mi vedo il messaggio iniziale nell'episodio e niente io vi saluto ciao turururututti ciao 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 Ciao!